La vaschettina è per le persone che vogliono un capito Vogliono far vedere che loro hanno la vaschettina Perché loro hanno il cuotterito Perché anche io vorrei avere una vaschettina Perché tu vorresti avere una vaschettina Gianluca? Io vorrei avere una vaschettina perché almeno sono diverso E mi faccio vedere per quello che sono e non per quello che ho Che cazzo superi da adesso? Figlio di puttana Vaffa culo Bravo Oh fino Ciao